17 ottobre 2009 si comincia con il premio Felice un doppio chilometro per indigeni di due anni partenza con l'autostart sono sei al via dopo il ritiro di New Zinevra Bar betting che si va delineando leggendo come favorita Nives Manco Fia di Indropark in sediolo Vincenzo Piscuaglio dell'Annunziata 2.26 la quota per Nives Manco a 3 Nereides numero 3 dello schieramento adesso quote che si vanno livellando 2.81 Nereides 2.20 Nives non bene in partenza numero 4 Nebbi Ok al comando si porta Nereides attaccata a largo da Nikla Nereides in vantaggio su Nikla poi Noshalans Gar che precede a sua volta nel sole Nives Manco e da chiudere Nebbi Ok gruppo abbastanza allungato con la contro favorita in vantaggio quando si passa ai 400 in 31.5 Nereides leader seconda posizione ha preso posto Nikla a tre lunghezze anche qualcosina in più c'è Noshalans Gar che capeggia il gruppo degli inseguitori impone una buona cadenza la corsa la FIA di Yankees Slide e Orsola M quando siamo al completamento della piegata cavalli che vengono davanti alle tribune per il passaggio Nereides Nereides Nikla Noshalans Gar nel sole Nives Manco e da chiudere sempre Nebbia si passa a metà corsa in 1.18.2 con Nereides sempre in vantaggio lunga fila indiana adesso accenna a spostare nel sole che poi però decide di ripiegare di nuovo in corta quando si va a affrontare la retta opposta alle tribune Nereides in vantaggio nei confronti di Nikla Noshalans Gar nel sole Nives Manco staccata nebbia quando siamo a metà della retta opposta alle tribune Nereides in buon vantaggio a due comode nei confronti di Nikla adesso Nel Sole muova all'esterno e si trascina anche a favorita Nives Manco ma Nereides ha acquisito buone quattro lunghezze sul resto della compagnia dalla quale prova a progredire Nel Sole seguito da Nives Manco quando siamo a tre quarti della piegata conclusiva Nereides in vantaggio nei confronti di Nel Sole di Nives Manco quando si entra in dirittura Nereides a 1.5 ancora di vantaggio nei confronti del numero 2 Nel Sole Nel Sole che prova a andare a prendere Nereides che appesantisce un pochino l'azione ma ancora 1.5 di vantaggio Nel Sole si lancia al suo inseguimento Nereides è praticamente ferma Nel Sole sta passando nei confronti di Nereides Nel Sole viene a vincere Nereides il secondo terzo Noshalansgar 2-3-1 2-3-1 il probabile ufficioso arrivo di questa prima Nel Sole un maschio da pine chip di casa Pignatelli 7.94 la quota 1-18-3 la media per il vincitore Nel Sole per il vincitore per il vincitore Pignatelli 8.94 laotta lupa Nel Sole possono s s s Grazie.